Ogni tanto una tappa per regalare quella a qualche gruzzoletto e quello lasciato nell'ultima sosta è davvero consistente. Una generosa dea bendata ha deciso di fermarsi ancora una volta in provincia di Frosinone, a col felice per l'esattezza, dove sono piovuti 100.000 euro. Il concorso fortunato che ha regalato il denaro è il 10 e l'8. La schedina vincente, per un totale di 3 euro, è stata giocata giovedì pomeriggio nella ricevitoria che si trova sulla casilina Market & Vinci della signora Amelia Colozzi. È la figlia a raccontarlo. La signora ieri pomeriggio si è regata presso la nostra tabbaccheria, ha giocato 3 euro in totale al 10 e l'8, un euro normale, poi ha messo un euro con l'oro e il doppio oro e lei ha vinto la somma di 100.000 euro. Ha giocato 10 numeri e ha beccato 9 numeri su 10.